Al termine di una grande partita il Borgo Massano travolge il Casinina per 3 reti a 1 in una partita veramente bella dove il Borgo ha rischiato solo nel finale anche per via del infortunio del portiere Cangini, speriamo che non ci fosse nulla di grave. Con noi Marco Dini, uno dei protagonisti della partita, allora Marco un bel Borgo Massano è mancato forse qualcosa nell'ultimo quarto d'ora se vogliamo trovare il pelo dell'uovo però mi sembra che la vittoria sia più che meritata. Come hai detto te abbiamo dato tanto quindi quando si arriva verso gli ultimi minuti è difficile tenere sempre lo stesso ritmo, comunque loro escono fuori quindi di conseguenza spingono. Abbiamo tenuto bene, abbiamo tenuto, ci siamo difesi bene, abbiamo fatto solo qualche errore qualche errore e abbiamo finalizzato quasi tutte le occasioni quindi un'ottima partita dobbiamo continuare così per le prossime, sono tutte finali, noi se vogliamo arrivare primi dobbiamo dare il massimo al 100% sempre. Hai detto una cosa, arrivare primi, quindi può essere la vittoria della svolta da qui in avanti ci potrebbero essere 7 finali allora. Noi proviamo a dare sempre il massimo per vincere, poi dopo si fa la conta finale, siamo qui per vincere, dopo quel che viene viene, ci siamo prefissati la vittoria per tutte queste ultime 6 partite, poi dopo, se la fortuna ci assisterà. La dedica della vittoria penso a Cancini. Sì a Matteo che sei infortunato, speriamo non sia niente, speriamo e che si rimetta subito. A più presto. Benissimo, grazie.